Musica Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo commentary Oggi per la prima volta vi dovrò parlare di due cose molto importanti Allora la prima è che mod... anzi diciamo che le due cose si possono anche unire Adesso vi spiego subito il perchè La prima è che oggi è lunedì che appena ho finito di fare questo commentary Edito tutto e pubblico subito Oggi è lunedì e sabato sono andato al Grande Emilia Modena Alla Media World di preciso perchè il Grande Emilia per chi non lo sapesse scusate E' un centro commerciale Praticamente ero dentro a questo centro commerciale Come sempre faccio un giro così per vedere cosa c'è di nuovo Fatta sta che dopo un po' sono entrato dentro alla Media World E cioè sono andato a fare un giro nell'Apple Store E proprio lì sì... lì davanti mi sono trovato Gabbo, Frax, Omietol e Dread Cioè all'inizio neanche io ci credevo ma poi ho visto bene ed erano loro Cioè è stata un'emozione che è inspiegabile possiamo dire Io in quel momento lì dentro al portafogli giravo con una chiavetta Che è da mesi... cioè mesi... è da un bel po' che diciamo avevo in mente questo progetto Che non si era mai visto... cioè non si è mai visto in Italia E non credo... credo non si sia mai visto neanche nel mondo Adesso non lo so, correggetemi se sbaglio Ma in Italia quasi sicuro non si è mai visto E infatti un'idea che mi era venuta adesso non mi ricordo quanto tempo fa Che poi ho deciso di mandare avanti Praticamente io in questo progetto qua c'entra... diciamo che va a serie E nella prima serie c'entrava Gabbo Quindi avevo deciso di mettere tutti i file nella chiavetta Dato che lui è di Modena, io sono di Modena E certe volte, non si sa, forse un giorno l'avrei beccato al Grande Emilia E il fatto sta che quel giorno lì era proprio il giorno fortunato Possiamo dire dove l'ho incontrato al Grande Emilia Subito sono andato a... cioè l'ho salutato e mi sono presentato naturalmente E io ho chiesto di questo progetto qua Lui mi ha dato l'ok che... cioè gli faceva anche piacere che pubblicassi una cosa del genere Non ha visto il file perché cioè mi ha detto subito che a lui gli andava bene E io l'ho chiesto perché a me sembrava giusto dato che c'entrava lui in questa cosa E mi sembrava giusto molto... molto giusto chiederglielo Quindi... cioè dopo gli ho chiesto se facevamo una foto insieme Lui mi fa... ah vieni che là ci sono anche gli altri Che intendeva... Frax, Ometol e Dread Siamo andati là tutti insieme Cioè mi ha portato da loro Che sono stati molto simpatici e disponibili E abbiamo fatto una foto insieme A dire la verità ne abbiamo fatte due Che... una di quelle foto lì l'abbiamo scattata col Mac dell'Apple Store Che... cioè stavano un po' scherzando così Infatti cioè dopo ho visto anche... mi hanno fatto anche vedere che C'erano messi lì in tutto l'Apple Store a fotografarsi e a mettere le foto come sfondo In tutti gli iPhone e non so anche nei Mac adesso non mi ricordo bene E... cioè il fatto sta che comunque sono molto simpatici E sono stati anche molto disponibili Quindi io li saluto e... Questa qua era la prima cosa molto importante Domani martedì 3 settembre sì Ci sarà questa... questa serie che ho deciso Ci ho lavorato moltissimo tempo Più di 10 ore di editing Cioè ci ho lavorato un casino per questo progetto qua Perché ci tengo molto e domani lo avrete sicuramente Quindi... oggi finisco di sistemare le ultime 2-3 cose E domani lo metto subito a caricare Adesso non so per quale ora Quindi mi raccomando siateci tutti in questo canale qua E... niente Tutto quello che dovevo dirvi ve l'ho detto E... mi raccomando ragazzi per domani siateci tutti Condividete questo video, condividete quell'altro Mi raccomando iscrivetevi anche al canale per star sintonizzati E noi ci becchiamo domani Quindi... alla prossima Bella UAB in attesa di ordini UAB in attesa di ordini